Buongiorno a tutti e buona domenica. Dopo l'uscita del 57 su Bari, la previsione del 22 aprile 2022 si lascia. Ed ecco il nuovo Ambo unico. 15, 86 su Firenze, Milano, Nazionale e tutte. Ripeto, 15, 86, da portare avanti fino al 18 maggio 2023 e da lasciare solo se esce l'Ambata 86 su Firenze o su Milano. Buona fortuna a tutti da Rosario Gallo e da PrevisioniVincenti.it